E' così qua signore e signori, cari amici della Gran Fondo Campagnolo Rova, cari amici di questo spettacolo, di questa settima edizione. Ciao a tutti. Ciao a tutti. allora con Luca Paolini Gianluca Donato con Luca Paolini abbiamo il campione del mondo Alessandro Ballanna Andrea Taffi è arrivato anche Andrea Taffi ecco lì al fianco di Alessandro Ballanna un minuto o 60 secondi vedete voi come entra Sì 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 Scatola scatola Allì Allì Dici che sta avanti Siete qui a faticare ma Questa non si può attivare Le prossime due Le prossime tre Ma qualche piede No fifteen Dio Bene allora la Svizzera è presente facciamo un applauso agli svizzeri che sono le moglie qui oggi ragazzi possiamo dirlo adesso chi è l'isparatore di Roma? vediamo basta aspetta pure noi vai vai grande grande oh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.